Definizione perfetta, come si fa a raggiungerla? In questo video ti spiego come togliere più massa grassa possibile preservando tutta la massa muscolare. Iniziamo dalla condizione di partenza. Chiaramente uno dei fattori più importanti è il fabbisogno giornaliero. Infatti se avete già, se state già assumendo poche calorie non potrete assolutamente iniziare una fase di definizione. Quindi in quel caso l'unica cosa consigliabile è fare una reverse diet. Quindi cercare di aumentare il fabbisogno giornaliero senza aumentare possibilmente di massa grassa. Un'altra cosa importantissima è che ci deve essere abbastanza massa muscolare. Infatti la definizione è proprio una definizione del muscolo. Ma se non abbiamo abbastanza muscoli non ha senso iniziare una fase del genere. La parte più importante della definizione è chiaramente la dieta. Vediamo come distribuire i macros. Partiamo dalle proteine che sono sicuramente il macronutriente più importante. Infatti queste ci permettono di preservare il più possibile la massa muscolare. Inoltre ci permettono anche di bruciare più grasso e hanno un forte potere saziante. Il quantitativo ideale si aggira dai 2 ai 3,5 grammi per chilo di peso corporeo. Chiaramente però la maggior parte delle persone non avrà bisogno di andare nella parte alta di questo range. Passiamo ai grassi. Anche questi sono molto importanti perché non dobbiamo scendere troppo altrimenti rischieremo di compromettere la funzione ormonale anche l'assorbimento di alcuni micronutrienti. Quindi l'ideale sarebbe rimanere al massimo a uno 0,7 grammi per chilo di peso corporeo. Se vogliamo scendere di più possiamo farlo ma soltanto per brevi periodi. Passiamo infine ai carboidrati. Questi chiaramente dovranno essere sacrificati a favore degli altri macronutrienti. Ma come e quanto bisogna effettivamente tagliare le calorie e quindi i macronutrienti? Si può optare per due percorsi la definizione lenta e la definizione veloce. Io nel 90% dei casi consiglio sempre una definizione abbastanza veloce. Questo perché la massa muscolare che riusciamo a trattenere come vediamo ad esempio da questo grafico è praticamente la stessa. Però chiaramente avremo una perdita di grasso molto più veloce anche se poi alla fine della definizione sarà effettivamente di meno rispetto a una definizione lenta. Però contando il fatto che ci abbiamo messo molto meno tempo a raggiungere quella condizione secondo me ne vale assolutamente la pena. E il cardio è necessario? Abbiamo sempre sentito dire che per dimagrire bisogna andare a correre. Beh chiaramente questo è un falso mito infatti il cardio non è assolutamente obbligatorio. Può essere uno strumento utile in alcuni contesti mentre in altri potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Può essere utile perché chiaramente ci permette di bruciare calorie extra e magari quando siamo in una fase già avanzata della definizione ovviamente non sapremo da dove togliere ulteriori calorie e quindi dovremo optare per bruciarne di più con l'attività fisica. In alcuni contesti però fare troppa attività fisica extra quindi troppo cardio e magari con un'intensità troppo alta farà in modo di stressare ulteriormente il nostro corpo dato che come sappiamo quando siamo in deficit calorico è già effettivamente stressato e quindi perderemo più facilmente massa muscolare. Ma quale tipo di cardio andrebbe fatto? HIIT oppure LIS? Ad alta intensità o a bassa intensità? Beh anche qui gli studi ci hanno dato una risposta infatti non c'è alcuna differenza praticamente tra il cardio a bassa intensità e alta intensità quindi potete fare tranquillamente quello che vi piace di più. E per quanto riguarda gli integratori invece come sappiamo moltissimi personal trainer continuano a dire che non esistono integratori che favoriscano la perdita di grasso ma non è assolutamente vero. Esistono integratori addirittura con diverse evidenze scientifiche e in questo video vi elencherò alcuni di questi chiaramente non tutti perché la lista è molto lunga vi elencherò quelli più efficaci secondo il mio punto di vista. Partiamo dalla comune caffeina un alcaloide presente praticamente in tutti i termogenici per il suo effetto stimolante e lievemente lipolitico. Agisce come antagonista dei recettori della denosina e questo ha diversi effetti benefici come ad esempio aumentare lo stato di allerta e indurre un maggior rilascio di catecolamine. Esse aumentano il dispendio calorico e facilitano anche la liberazione del grasso per essere poi ossidato ma facilitano anche l'ossidazione stessa. La dose consigliata è di circa 5 mg per kg di peso corporeo al giorno da dividere possibilmente in 2-3 assunzioni oppure da assumere con formulazioni a lento rilascio questo per tenere dei livelli ematici di caffeina costanti durante tutta la giornata. Dopodiché abbiamo la sinefrina una sostanza che troviamo principalmente negli agrumi che agisce come agonista dei recettori beta-3 adrenergici. Produce quindi una stimolazione della lipolisi ma anche un aumentato rilascio di catecolamine aumentando quindi sia il processo di lipolisi che quello di beta-ossidazione. Il dosaggio consigliato va da 1 a 3 mg sempre per kg di peso corporeo al giorno anche questa da dividere possibilmente in 2-3 assunzioni oppure da assumere con formulazioni a lento rilascio. Dopodiché abbiamo la carnitina uno degli integratori più discussi in assoluto. Infatti ci sono un sacco di personal trainer che dicono che effettivamente aiuta a bruciare grasso e altri che dicono che siano solo soldi sprecati. Questo perché la maggior parte di essi non hanno capito effettivamente il meccanismo d'azione di questo integratore. La carnitina si occupa di trasportare gli acidi grassi all'interno del mitocondrio per essere ossidati ma per entrare nel mitocondrio ha bisogno di un trasportatore specifico che è dipendente dall'insulina. Quindi se vogliamo rendere davvero efficace la carnitina dobbiamo assumerla insieme a dei carboidrati in modo da stimolare la nostra produzione di insulina. Magari in un pasto che contenga circa dai 60 ai 90 g di carboidrati netti dipende ovviamente anche dall'indice glicemico di essi. Il dosaggio consigliato qui è di 2-4 g al giorno. Infine abbiamo l'epigallocatechina gallato o EGCG una delle catechine più potenti e più abbondanti che si trovano nel tè. Questa aumenta l'ossidazione dei grassi e il dispendio calorico tramite un'inibizione della catecol O-metiltrasferasi un enzima che si occupa di degradare le catecolamine quindi da come possiamo capire ha un effetto sinergico con gli altri integratori che aumentano il rilascio di catecolamine. Il dosaggio consigliato è di circa 400-500 mg al giorno da assumere anche magari prima del workout. Per aumentarne la biodisponibilità si può assumere a stomaco vuoto oppure associarla alla piperina. Vediamo adesso alcuni consigli pratici ad esempio il fatto di fare pochi pasti durante la giornata piuttosto che quando siamo in massa magari che ne facciamo addirittura 5 o 6 l'ideale sarebbe farne intorno ai 3 questo perché ogni pasto sarà molto più abbondante e ci permetterà quindi di rimanere più sazi e anche più a lungo. Un altro consiglio è quello di assumere prima le proteine e poi gli altri macronutrienti all'interno dello stesso pasto. Questo perché come abbiamo capito hanno un forte potere saziante e quindi sarebbe l'ideale in fase di definizione perché ci saziamo prima. Poi chiaramente l'ideale sarebbe assumere cibi a bassa densità calorica quindi cibi che riempiano molto che abbiano un volume abbastanza rilevante però che abbiano poche calorie come ad esempio potrebbe essere un'insalata. Questi cibi possono anche essere assunti all'inizio del pasto che sarebbe l'ideale. Questo perché ci riempiranno prima e quindi poi mangeremo meno degli altri alimenti. Un altro consiglio è quello di utilizzare tutte quelle sostanze che diminuiscono il senso di appetito come ad esempio il caffè. Altri cibi che possono risultare estremamente utili e dei quali dovremo aumentare i quantitativi rispetto alla fase di massa sono frutta e verdura. Questo perché come sappiamo le fibre hanno un forte potere saziante e quindi assumerne di più in definizione può essere l'ideale per appunto assumere meno calorie. Inoltre quando si è in una fase di deficit calorico si tende ad assumere meno alimenti e in quantità minori. Chiaramente perché dobbiamo tagliare le calorie. Quindi andremo molto più facilmente incontro a delle carenze. Infine il fattore più sottovalutato di tutti l'acqua. Infatti di solito si pensa prima addirittura agli integratori e a tutto il resto e poi al quantitativo di acqua giornaliero. Ma questa è fondamentale per far funzionare correttamente il nostro corpo e inoltre assumerla magari vicino ai pasti ci permetterà anche di sentirci più sazi. Dopo aver visto questo video sicuramente saprai come gestire una fase di definizione in modo perfetto così da perdere più massa grassa possibile e mantenere la massa muscolare il più possibile o addirittura magari in alcuni casi aumentarla. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto attivare la campanellina delle notifiche e se hai qualche domanda puoi scriverla nei commenti che sarò felice di risponderti. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.